Mi scusi in anticipo se in alcune slide non vedete i giocatori che sono entrati a partire in corso ma le ho fatte velocemente, le ho fatte per portarveli il prima possibile perché ormai, cioè non c'è niente a dire, io le pagelle, queste pagelle le ho portate solo per voi nel senso, ero sicuro di non portarle, vi ho detto portiamole perché comunque voi volete sapere il mio giudizio ma veramente voglio togliermele sinceramente di mezzo di una partita, voglio parlare di questa partita orribile, veramente delle cose orribili ho visto delle cose veramente orribili a partire dall'allenatore domani preparatevi o dopodomani massimo perché fare un video relativo alle ultime appunto stagioni della Juventus, analizzeremo tutti gli errori che sono stati fatti però partiamo direi dai singoli, vi avviso già, ma tanto lo sapevate che probabilmente ce ne sono massimo due di sufficienza tra entrati e titolari per lì, voto sei del mezzo fa una parata strepitoso su Mkhitaryan da portiere straordinario che probabilmente ci fa ancora sperare però guarda, cioè, veramente povera anima povera anima, veramente si impegna sempre, parla di tutto e poi vede sta squadra qui cioè, veramente fa una parata ripeto strepitoso su Mkhitaryan, parla sempre quello che può non riesca mai, cioè, non riesca mai in te, indubbiamente non fa errori veramente, hanno comunque i giocatori dell'inter ieri hanno ottiato spesso bravo comunque per rispondere 4 e mezzo a Bremer partita imbarazzante non vedo il senso della parola non ci capisce niente ma, chiaramente, Bremer può fare quello che può perché, se un giocatore non viene messo a proprio agio in una formazione lo sappiamo che Bremer deve essere messo al centro a difesa io, di colpe ai giocatori, ne do, ma relativamente poi scoprirete il voto godato all'allenatore però, si perde Dzeko sempre, fa errori su errori ma, devi metterlo in condizione di far bene il giocatore 5 e mezzo a Bonucci non ha neanche fatto una partita orribile non ha neanche fatto una partita orribile a parte per i 20 minuti io credo che mettere Bonucci in questa partita sia stato un disastro non è vero senza la parola perché questa è una partita che non dico che ti decideva una stagione ma te la decide al 50% quindi cioè, non gioca neanche malice però fare turnare in questa partita è proprio sbagliato è proprio sbagliato 5 e mezzo io non ho capito niente delle scelte ma poi ci arriveremo con calma dopo 5 e mezzo da Alexander che forse provava a fare rispetto agli altri due qualcosa di in più primo tempo vomitevole secondo tempo meglio provo a salire un po' in difficoltà pure lui 5 a Kostic perché fa cioè, fa una partita non bella sicuramente non è al top della collezione anzi poi viene diciamo tolto alla fine primo tempo per mettere mi voto 5 non gli arriva un pallone giocabile capite sta facendo solo me sta avendo un cane incredibile che rende non è in condizione però non è che adesso se non è in condizione non può arrivare di un pallone a volte il giorno dicevo prima 5 a Kostic un tiro parlate di un anno l'unico tiro in porto è il vento in 90 minuti è pericoloso almeno 5 più a Rabiot che voglio dire partita brutta quella del giocatore francese una delle poche cose positive di questa stagione non vedo l'ora che finirà sta stagione schifosa 5 più chiaramente dominato dal centrocampo dell'Inter che ha fatto una partita ottima cioè hanno fatto una partita ottima parella amichitare eccetera 5 Locatelli non mi sta piaccendo Locatelli ad aprire a parte 2-3 prestazioni buone il resto poca roco non mi è piaciuta ammonito poi sbaglia tutto quello che poteva sbagliare tra l'altro mi sono dimenticato di mettere Paredes e poi Danilo al posto i Borunci a Danilo gli do 6 e entro il falso che devo dire Paredes entra non dà contributi non dà una mano 5 Paredes direttamente quando entrato non ho capito minimamente il suo cambio 5 Pio Miretti che forse uno di meno peggio probabilmente che devo dire non è stata una pessima prestazione di Miretti considerando che l'anno scorso giocava in Serie C chiaro che però è ancora indietro secondo me non ho capito perché non è entrato fagiola al suo posto io spero che non sia stato punito anche se lo temo è veramente in mista non si ha capito niente e partire su partite che la Juventus veramente non si sta più ritrovando sembra una scuola che ha mollato sembra una scuola che io capisco tutto ragazzi io capisco le vicende extracampo capisco le critiche capisco che i giornali veramente siano infami cioè io capisco tutto io capisco qualsiasi cosa ma fare una prestazione del genere non è accettabile non è veramente accettabile entra Pogba al suo posto cioè perché mette Pogba in questo posto misteri su misteri ragazzi la formazione la faceva meglio Topolino probabilmente la faceva meglio uno che di caccia non capisce niente una partita ripeto preparata male scusate mi sono andato Locatelli non ho capito perché non è trafagioli 5 De Cio che forse è stato uno dei meno peggio voi ve la prendete c'è alcuni se la prendono con De Cio con Rugani però chiaro che De Cio non ha fatto una buona partita primo tempo vergognoso con Di Marco che ha pure segnato rispugge continuamente l'esterno appunto dell'Inter secondo tempo meglio forse forse è uno nemmeno peggio nel secondo tempo chiaro che questo ragazzo non gli do particolari colpi nel senso che ci tiene la maglia quantomeno questo quantomeno questo 4 e mezza Di Maria io sembra che Di Maria si stia trasformando nella coppia di Ramsey da qualche partita partita da 4 e mezza se non da 4 non fa mai niente veramente mai cercato e non non ho capito il perché si è stato inserito da esterno continuamente bloccato dall'Inter anche Di Maria veramente partita inaccettabile 4 e mezza Chiesa che faceva la prima punta prendiamoci conto prendiamoci conto perché Chiesa non può giocare in quella posizione perché è basso perché ha caratteristiche differenti lui deve saltare l'uomo contro Inter non l'ho fatto non può essere schierato dall'inizio però non può anche essere schierato in quella posizione cioè piuttosto metti il tridente cioè piuttosto metti il tridente piuttosto per una partita veramente inaccettabile quella di Chiesa ma non tanto per il giocatore ma pensi perché il mister lo schiera in una posizione non adatta a lui veramente 4 e mezzo 3 e mezzo da Allegri che forse sarebbe pure da zero sarebbe pure da zero Allegri non glielo ho dato per pietà ci sarebbero tante cose a dire io non le dico perché non ho voglia di parlare ancora di questa partita perché credo che tutte le persone siano d'accordo con me ovvero che questa partita del mister non ci ha capito letteralmente una sega e io credo che veramente sia necessario cambiare guida tecnica il prossimo anno non l'ho mai detto in un video su youtube ma non perché cioè non ve l'ho detto per il semplice motivo che comunque era un discorso complicato io già dopo la partita con lo Sassuola avevo già delle peplessità se cambia l'allenatore o no poi però dopo questa partita ho la conferma ho la conferma di un allenatore che in questi due anni alla Juventus ha fatto male malissimo con pochi passi in avanti con tantissime sconfitte poche troppe poche vittorie e di un allenatore soprattutto che in conferenza stampa dice delle cose inammissibili cioè se tu mi vai a dire che la Juventus ha fatto una buona partita sei veramente uno che di caccia non ce ne capisce niente chiaro che sono visioni però la partita della Juventus di ieri era da 4 in pagella era da 4 in pagella se non di meno e tu il 90% dei colpi che stavano dire sono dell'allenatore con questo voglio dire cioè io di allegri avrò sempre un ricordo positivo per gli scudetti per le coppe perché veramente è un allenatore che ci ha fatto vincere però in questi due anni non c'è stato nulla l'unica cosa che salvo che ho salvato è l'utilizzo dei giovani perché comunque sono stati utilizzati i giovani anche se Fagioli non si sta gestendo come si dovrebbe e forse anche il fatto di avere un gruppo unito però io spero che la squadra non perda la testa l'ha persa Allegri secondo me dopo le parole diciamo dette ai dirigenti dell'Inter che non commento ma le sapete tutti credo che bisogna vedere se sono vero ma credo che siano vere però chiaramente dopo Sassuolo secondo me abbiamo visto una squadra non unita come una volta perché a parole sono capaci tutti però in questo momento c'è bisogna cambiare qualcosa c'è diciamo un utente che su Twitter ha detto una cosa secondo me anche interessante ovvero chi è che verrebbe ad allenare la Juventus al posto di Allegri in questa situazione ed è una cosa anche su cui si può discutere perché sì è vero ci sono tanti allenatori liberi Nuggetsman Luisa Rigue però bisogna anche essere realisti nella vita ed effettivamente ragazzi c'è una Juve che rischia di non giocare le coppe europee per chissà quanti anni vediamo per quanto riguarda i punti di penalizzazione le manovre stipendi ed effettivamente è vero è vero quello che dice un utente su Twitter però è necessario dovrebbero usare senza di Grazie a tutti